Il Teramo va avanti a piccoli passi, secondo 0-0 consecutivo per la formazione bianco-rossa che rimanda ancora all'appuntamento con la vittoria al Bonolis impattando contro l'Albinoleffe. Con bacio Terrecino e Ilari non al meglio, Palladini conferma le attese ed il 3-5-2 ma c'è Tulli al posto di San Domenico in avanti accanto a Gondò. Dall'altra parte l'Albinoleffe vara un inedito 3-4-1-2 con Giorgione alle spalle di Montella e Gelli per sopperire all'assenza del capo cannoniere Couco. E' il Teramo avere subito le migliori occasioni. Tulli al settimo prova di inquadrare la porta con un tiro a giro di destro che sorvola di poco l'incrocio dei pali. Tre minuti dopo Gondò vede l'inserimento di De Grazia ma il mancino è calibrato male. L'Albinoleffe prova a manovrare soprattutto sulla destra e dai piedi di Giorgione dopo il quarto d'ora arriva il brivido. Il giocatore bergamasco colpisce la parte alta della traversa con Bifulco che aveva probabilmente battezzato fuori il pallone. Il Teramo preferisce lasciare spesso il pallino dal gioco agli avversari con Tulli prezioso in fase di ripiegamento e Sales puntuale in difesa. Prima di rientrare negli spogliatoi ci provano Montella da una parte ed Amadio dall'altra ma senza fortuna. Al quarantunesico c'è anche un contatto in aria tra Gusu e Varas con il direttore di gara che lascia però proseguire. La ripresa si apre con un tentativo di De Grazia dalla distanza su cui Coserci mette una pezza mentre gli ospiti si fanno pericolosi con uno schema da calcio di punizione che manda al tiro a Montella ma l'attaccante non inquadra la porta. E' clamorosa però l'occasione che capita al Teramo al settimo della ripresa. Ventola centra in pieno la traversa. La palla arriva a Gondò che preferisce aggiustare il pallone e farsi recuperare piuttosto che spingere la sfiera in rete. Palladini manda in campo Bacio e Terracino al posto di Amadio e Vira al 3-4-3 giocandosi anche le carte di San Domenico e Fratangelo. Le cose però non girano come dovrebbero ed alla fine il Teramo rischierà nel recupero dagli sviluppi di un calcio di punizione su cui Scrosta, fortunatamente per i Biancorossi, non impatterà bene con il pallone sul secondo palo. Adesso la formazione di Palladini lascerà le mura amiche per affrontare mercoledì il turno infrasettimanale contro il Sudirol e visti gli ultimi due pareggi la vittoria potrebbe essere doppio. Grazie a tutti.